Questa mattina Castelvetrano si è svegliata con una tragedia. Ci troviamo qui in via Cite dei Gasperi. A Castelvetrano, come vedete in questo appartamento, in questa casa, sono stati trovati senza vita marito e moglie una coppia di Castelvetrano. Erano sposati da più di 25 anni e non si sanno ancora le cause. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, su richiesta di una vicina di casa che si è preoccupata. E ancora non sappiamo nulla. Siamo qui. Le ipotesi potrebbe trattare anche di un omicidio, suicidio, però ancora non sappiamo. C'è il medico legale all'interno della casa e più tardi sicuramente vi daremo aggiornamenti.